Un sondaggio della CNN premia l'accento italiano su Facebook. Dal risultato è emerso che la nostra lingua è la preferita tra le straniere. Secondo posto per l'Inghilterra e la Francia, terza la Spagna. Il nostro accento, secondo il sondaggio, riflette il nostro essere dal romanticismo in voi. Si tratta di una piena legittimazione della lingua italiana attraverso il social network di Uamato.